La ricerca del benessere parte dal sorriso ed io, per la salute dei miei denti, ho scelto DentalCop. Oltre ad un servizio qualificato ed efficiente, DentalCop si differenzia da tutte le altre cliniche odontoiatriche per la cura e l'attenzione rivolte al paziente. Da DentalCop, protocolli e standard operativi, rigorosamente italiani, sono applicati sia all'odontoiatria classica, sia alle ultime innovazioni come l'impronta digitale, l'ortodonzia invisibile e tutte le tecniche che trasformano l'ansia da poltrona in un piacevole incontro, con il massimo comfort anche per i più piccoli. Scegli per te e tutta la tua famiglia questa filosofia aziendale. Il percorso sarà chiaro, corretto e trasparente. Tempi di attesa certi e prezzi vantaggiosi perché garantiti dalla forza della cooperazione di un grande gruppo. Con noi sorride anche la convenienza. Le porte delle cliniche DentalCop sono aperte tutti i giorni con orario continuato anche il sabato. Contatta il numero verde per fissare la tua prima visita senza impegno nella sede a te più vicina. Con DentalCop il sorriso è per tutti!